Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi. Ecco chi è, la bellissima figlia. Martina Pieraccioni è la figlia di Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi. La ragazzina è nata a dicembre 2010 e perciò fra pochi mesi avrà 13 anni. Sui social, i genitori hanno pubblicato tanti momenti che la vedono protagonista, per esempio i compiti che ama fare sul pavimento, o le posizioni insolite in cui guarda la televisione per rilassarsi. Attraverso questi contenuti è possibile capire che Martina ha un bel caratterino divertente, ma nelle immagini in tanti hanno notato la somiglianza che diventa sempre più spiccata con il papà Leonardo Pieraccioni. Martina è nata dalla relazione tra lui e Laura Torrisi, a tre anni dall'incontro sul set di una moglie bellissima. Era stato Pieraccioni a volere che Laura recitasse nel film, dopo averla vista al grande fratello, e dopo aver capito che poteva essere l'attrice adatta per diventare la protagonista del suo film. Nel 2014 però è arrivato l'annuncio della loro separazione, anche se i due sono rimasti in buoni rapporti. Entrambi hanno parlato di stima ed affetto reciproci, che sarebbero sempre rimasti, ed anche dell'intenzione di continuare a ricoprire il loro ruolo di genitori, con la massima serenità. Leonardo Pieraccioni adora sua figlia e lui stesso ne ha parlato in un'intervista, dicendo che la unisce a lei un rapporto speciale. Ironizzando, ha dichiarato che è come se fossero fidanzatini, perché di volta in volta, quando si vedono, decidono se andare a mangiare la pizza fuori o fare altro, oppure decidono quale film vedere. Pieraccioni ha anche dichiarato che chiede sempre a Martina se è vestito bene, o le domanda consigli su altre cose rilevanti. L'attore e regista ha spiegato che con i figli di genitori separati, spesso si viene a creare un ambiente democratico in cui si decide tutti insieme che cosa fare. Pieraccioni però ha detto che effettivamente a volte capita, di essere troppo indulgenti nei confronti dei figli, e questo è quasi un modo di farsi perdonare per l'amore finito. Ad ogni modo, sembra proprio che Martina voglia seguire le orme dei genitori, ed infatti ha già fatto un cameo in sesso rose. Leonardo Pieraccioni ha detto che sua figlia è bravissima, e che si sente a suo agio di fronte alla telecamera. Magari, quindi, quello dello spettacolo sarà proprio il suo mondo. Voi che cosa ne pensate? Avete già visto Martina Pieraccioni sui social, e notate anche voi la somiglianza con il padre? A voi i commenti! Grazie!